Vi avevo promesso una puntata di Just Today ricca di storie interessanti e di graditissimi ospiti. L'ospite che ci ha raggiunto in studio conferma appieno queste ipotesi, queste tesi. Abbiamo con noi il dirigente scolastico dell'Ipeo a Michele Lecci di San Giovanni Rotondo e Manfredonia, il dirigente scolastico e docente Luigi Talienti. Buongiorno Luigi, ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito. Con il nostro dirigente scolastico Luigi Talienti potremmo parlare di un'infinità di argomenti perché è un dirigente non soltanto molto giovane e dinamico, ma un portatore di innovazione nel mondo scuola, sempre pronto a proporre nuovi progetti a coinvolgere il mondo scolastico dagli allievi, ai docenti, ai genitori per fare della scuola un luogo vivo di apprendimento perché appunto crede che l'educazione sia uno dei pilastri fondanti della società umana. Lo crediamo anche noi, per questo è qui ed è qui per un motivo particolare perché la sua esperienza nel mondo scuola nasce in un contesto molto singolare e da questa esperienza lui partorisce tra virgolette un libro che si chiama Al di là delle sbarre edito dalla casa editrice del Rosone di Foggia. Il titolo già anticipa quello che è il tema trattato e quello che è il luogo dove parte la sua esperienza di docenza. Per cui lascio a Luigi Italienti il compito di raccontarci appunto come parte la sua esperienza nel mondo della scuola, della formazione. Allora io credo che la scuola debba assurgere al meglio al ruolo di agenzia di socializzazione formale, quindi come dicevi Pocanzi non deve essere l'unica responsabile deputata al processo di apprendimento e di formazione, ma il processo di apprendimento e di formazione diventa più arricchente e più efficace nel momento in cui tutti gli attori sociali posti ovviamente in linea di continuità con la scuola entrano in campo e forniscono il loro prezioso contributo. Solo così si avvia un processo di socializzazione reale ed efficace. Io ho iniziato la mia carriera scolastica in un luogo in cui la scuola probabilmente doveva e deve esercitare ancora di più un ruolo più pregnante e più efficace, ovvero all'interno di un istituto di pena. La scuola all'interno di un istituto di pena si insinua come protagonista essenziale del processo riabilitativo dei soggetti ristretti. L'articolo 27 della Costituzione sancisce che la pena deve essere riabilitativa, la pena deve essere efficace e per rendere efficace la pena è necessario porre in essere una serie di attività, di azioni che contribuiscono a raggiungere l'obiettivo. Ovviamente in ottica prognostica e prospettica la valutazione sul comportamento e sul ravvedimento operoso dei soggetti ristretti non può avvenire in maniera passiva, ovvero sulla base di non aver commesso altro illecito o non aver tenuto una condotta disciplinalmente sanzionabile, ma deve essere valutata attraverso l'agire, attraverso il fare, attraverso il pensare, attraverso il confronto. Quindi la scuola assorge un ruolo fondamentale. Ovviamente parlando di scuole in carcere non si parla di un'istituzione autonoma che può operare nel rispetto dello statuito normativo e deliberato degli organi competenti come le scuole ordinarie, ma ovviamente si tratta di un'istituzione che è ospitata da un'altra istituzione, ovvero dall'amministrazione penitenziaria e quindi ha delle regole più ferre, più rigide che ovviamente devono essere rispettate all'insegna di quel valore di sicurezza che ovviamente deve essere preminente all'interno di un istituto di Pina. Sai come la vedo io? La vedo proprio come la luce in fondo al tunnel, un faro che segna un percorso per ritornare a quella società civile dal quale poi un istituto penitenziario nel bene o nel male ti distacca. In effetti io ho iniziato per mera opportunità la mia carriera professionale in carcere. Ho iniziato in carcere perché chi ho delegato a scegliere per questioni amorevoli e egoistiche ha scelto il carcere per consentirmi di lavorare in sede e non viaggiare. Però quella scelta in un primo momento non fu condivisa, anzi... Fu una doccia fredda? Fu una doccia fredda. Infatti io mi chiesi, giusto il carcere? Probabilmente perché anche io avevo un pregiudizio di fondo. Però ovviamente sono entrato in carcere con un ruolo istituzionale, sono entrato a servizio dello Stato e quindi dovevo contribuire, ho torto collo, con il mio compito a rendere un servizio efficace. Dopo tante titubanze, tante perplessità, dopo alcuni giorni dal mio primo ingresso in carcere si sono sincero, la mia motivazione è cresciuta, si è implementata in maniera proporzionale al coinvolgimento che ho rilevato nei miei alunni. Il mio primo gruppo classe era costituito da cinque studenti, cinque studenti che probabilmente erano stati iper sensibilizzati a presentare domande di iscrizione proprio per salvare quel posto, quella sede all'interno del carcere. Beh, durante l'anno quei cinque studenti sono diventati diciotto e diciotto non siamo andati oltre proprio per mancanza di spazio, però quei diciotto ragazzi hanno reso una cella perché noi facciamo scuola in una cella, buia, oscura, grigia, l'hanno resa colorata e l'hanno resa in un'aula scolastica e ti dico la verità, ogni giorno è stata emozionante, le prime emozioni sono state rilevate all'ingresso, noi ovviamente come soggetti esterni siamo sottoposti a dei controlli all'interno del carcere, quindi questi controlli molto spesso ritardavano l'ingresso a scuola. La cosa bella, meravigliosa è che inizialmente io aspettavo gli alunni anche arrivando in ritardo dopo i controlli, dopo pochi giorni erano gli alunni che si facevano trovare già dinanzi la porta della scuola e mi dicevano professore è fatto tardi perché per loro ogni minuto era prezioso, però quei minuti sono stati tutti recuperati, anzi con gli interessi perché la scuola ha una funzione fondamentale e il fare scuola soprattutto per chi è docente anima una voglia, un desiderio che va oltre il tempo a scuola, oltre le programmazioni e che hanno arricchito sicuramente la quotidianità dell'uomo, del professionista ma hanno stimolato anche una riflessione per quei ragazzi che hanno sbagliato, hanno avuto un inciampo e che quindi hanno diritto, non perché lo dice Luigi Italiendi ma perché lo dice la nostra carta costituzionale a una seconda possibilità. Se poi andiamo a analizzare i trascorsi e andiamo a vedere i disagi che molti di questi ragazzi hanno subito in età adolescenziale ci rendiamo conto che forse quella possibilità non fosse la seconda ma bensì la prima. Quindi sia stata negata proprio dal contesto in cui sono nati e cresciuti. Bene, si percepisce a pelle l'intensità col quale hai vissuto questa esperienza e da come la trasmetti che grazie al cielo l'hai riversata in un libro che rimane testimone fedele di quegli anni in cui hai fatto questo tipo di esperienza e noi ne parleremo solo tra qualche istante, ci prendiamo una brevissima pausa e ritorniamo al di là delle sbarre. In compagnia di Luigi Italiendi stiamo esplorando quello che è il mondo della formazione scolastica all'interno degli istituti di pena e che ha rappresentato la sua prima esperienza professionale come docente, anni molto intensi da un punto di vista emotivo, indimenticabili per molti versi che ha fatto confluire in un libro edito l'anno scorso dalle edizioni Rosone di Foggia dal titolo Al di là delle sbarre. Una bellissima copertina illuminata da quella luce in fondo al tunnel che associavamo alla formazione, all'istruzione che per tanti detenuti è tante volte una prima esperienza perché le condizioni in cui sono nati e cresciuti li hanno privati di questa opportunità che invece dovrebbe essere garantita a tutti. Luigi come nasce questo libro? Allora questo libro io non sono uno scrittore, non è uno paraletterario, è il libro e l'ho preciso ovviamente per dovizia in tutte le sedi, in tutte le presentazioni, precisando anche che ho rinunciato a ogni forma di introito e di diritto perché ripeto il mio lavoro non è fare lo scrittore ma essere un educatore e un uomo di scuola di cui ovviamente il cui ruolo mi rende orgoglioso. Detto questo ho avvertito l'esigenza di condividere un messaggio sulla base di un'esperienza personale condotta su più livelli perché non solo l'esperienza è stata condotta a livello professionale come docente ma è stata condotta a livello umano come volontario e anche come avvocato. Praticamente ho vissuto questa esperienza in triplice vesti. Sarebbe stata un'esperienza che per me l'opportunità doveva durare un solo anno, sono ancora volontario presso la casa circondariale di Foggia e ormai sono passati quasi 20 anni. Quindi significa che i processi di cambiamenti, i processi di riqualificazione devono sortire degli effetti non nel breve periodo ma nel medio e lungo termine e quindi le azioni devono essere supportate. Poi io non sono una persona che fa un passo indietro, crede quotidianamente in ciò che fa, crede nel bene comune, crede effettivamente che è un servizio reso in un luogo di sofferenza, qual è quello di un carcere, di un ospedale, è un servizio che acquista qualità maggiore. Questo messaggio è stato rappresentato perché? Perché quel pregiudizio che inizialmente i primi giorni della mia carriera, del mio incarico hanno riguardato la mia sfera personale, ovviamente può essere, e questo è certificato sempre dal mio vissuto, è esteso anche a una platea vasta di persone perché hanno la rappresentazione di un luogo che non conoscono direttamente e che immagino diversa da quella che effettivamente il ruolo riveste. Il carcere è una comunità, il carcere è un luogo che ospita persone che hanno sbagliato, il carcere è un luogo che ospita persone che devono intraprendere un processo di retenzione e di riabilitazione. Il carcere è quindi un luogo dove ci sono vite, dove ci sono relazioni interpersonali, dove ci sono dei sentimenti, ci sono delle emozioni, precisiamo che una sentenza di condanna definitiva non investe soltanto la sfera personale del condannato, ma investe anche i suoi affetti. Se pensiamo a tutti quei bambini che non hanno la possibilità di condividere la fase giovanile di crescita con il proprio padre, diciamo che già quei bambini per responsabilità loro non attribuibili hanno un gap di perdita rispetto a un vissuto ordinario e tranquillo che dovrebbe connotare la vita di un bambino. Quindi è già un rapporto affettivo che si interrompe e che l'azione del docente, l'azione del volontario, l'azione dell'avvocato doveva alimentare sempre e comunque per riconoscere i diritti dei bambini al di là delle sbarre. Quindi come docente e come volontario, unitamente ai miei colleghi volontari, perché nel tempo quel pregiudizio è stato abbattuto e dal volontario si è passati alla squadra dei volontari, ecco lo scopo del messaggio, abbattere il pregiudizio e sono state poste in essere delle azioni volte appunto ad alimentare questo rapporto affettivo. Nel libro sono raccontati anche tanti episodi di vita vissuta, alcuni dei quali hanno messo proprio in relazione i genitori con i propri figli, ce ne vuoi raccontare qualcuno? L'emozione, una delle emozioni, ma ripeto, potevo scrivere un manuale sulle emozioni, però voglio dire molte le riservo alla mia sfera personale. Allora ricordo che tramite l'associazione Bambini senza sbarre abbiamo organizzato una partita di calcetto, abbiamo utilizzato lo strumento della competizione sportiva anche perché ha una valenza educativa e perché suscitava un coinvolgimento attivo e proattivo della popolazione detenuta e ricordo che spettatori d'eccezione e d'eccellenza in quell'occasione erano i figli dei soggetti ristretti, nonché le loro mogli. Io ricordo un ragazzo che doveva giocare e praticamente mi disse, professore io stamattina non gioco e avevo un bambino piccolissimo in braccio, aveva pochi mesi, ha detto vabbè ma fai un po' la partita, c'è tua moglie, c'è tua figlia e ha detto professore questa è la prima volta che io vedo il mio bambino da quando è nato. E' stata un'emozione enorme perché nel nostro piccolo abbiamo contribuito a unire due persone che per natura dovrebbero essere unite, padre e figlio, che però in virtù di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, ovviamente giusto e non eccepibile in alcun modo, ha posto delle limitazioni, limitazioni che devono essere oltrepassate dal facere, dal buonsenso e dalla ragionevolezza, ovviamente nel rispetto dei ruoli, nel rispetto delle regole, perché la scuola, il docente, il volontario e ogni addetto ai lavori nel contesto carcere rappresenta un'articolazione dello Stato e deve contribuire nel rispetto delle regole con le altre approbbità a raggiungere degli obiettivi e delle finalità, finalità che poi hanno, contribuiscono, dovrebbero contribuire a lenire un disvalore sociale, perché se i soggetti ristretti effettivamente terminassero in maniera efficace, in maniera compiuta il loro percorso riabilitativo, nel momento in cui avverrà la riammissione in libertà non commettono più lo stesso reato o altre condotte delittuose che determinano il loro ricollocamento presso la struttura carceraria, quindi in maniera prospettica si dovrebbe anche presupporre una riduzione in termini statistici dei reati. Ma io dico che è sicuramente così, perché altrimenti vivremmo nel caos più totale, la verità è che tante volte una brutta notizia fa più clamore di tante piccole e belle notizie che eppure ci sono quotidianamente, per cui noi con Just Today a Padre Pio TV siamo felici di raccontarvi anche buone notizie, belle esperienze come la tua che ci insegnano che un cambiamento reale è possibile nella misura in cui superiamo la soglia del pregiudizio, ci rimbocchiamo le maniche e in prima persona proviamo a fare la nostra piccola parte. Io sono fermamente convinto, ognuno di noi nel proprio piccolo e col proprio apporto individuale deve contribuire con senso civico al raggiungimento e alla tutela del bene comune e il bene comune e anche nel bene comune rientra anche un percorso riabilitativo in carcere. Io ho avuto contezze nel libro rappresentato che ci sono stati casi di ravvedimenti operosi, certificati e incontestabili. Ovviamente se analizziamo quel dato in maniera statistica ci rendiamo conto che il dato è minimo, però quel dato lo dovremmo analizzare in maniera qualitativa, ovvero se quei ragazzi ci sono riusciti, per analogia e per traslato, possono riuscirci tanti altri giovani ragazzi che hanno una prospettiva di vita medio-lunga, che hanno un orizzonte prospettico che nessuno può sottrarre o privare. Si tratta di diritti che riguardano la sfera individuale, ma di diritti che dovrebbero sovrendendere anche il regolare svolgimento della vita comunitaria. Noi dobbiamo estendere la valutazione oltrepassando gli individualismi e oltrepassando la concezione di vedere il singolo caso come singolo caso, noi dobbiamo condividere la singola esperienza per cercare di costruire buone prassi e le buone prassi come sociologicamente provato dovrebbero strutturare mutamenti sistemici che ovviamente non fanno che bene alla società civile. In una società civile che sta attraversando un momento storico molto duro, molto difficile per fattori contingenti, la pandemia, ma i disagi economici e sociali e noi non ci rendiamo conto che i nostri ragazzi devono essere accompagnati, devono essere supportati, parliamo dei ragazzi e delle giovani generazioni, perché rappresentano il nostro futuro. Se alimentiamo il disagio con il disagio, il nostro futuro è grigio. Se li accompagniamo, ovviamente facendo comprendere loro che il sacrificio è una forza, che l'impegno è una virtù, che il guadagno facile è un disvalore, che le calittive condotte sono strade chiuse, non sono strade illuminate, ovviamente noi diamo una prospettiva al nostro futuro, investiamo sul nostro futuro, se ci giriamo di spalle. Luigi, stiamo giungendo alla conclusione di questa bellissima chiacchierata, però prima dei saluti ti volevo chiedere un altro piccolo episodio che magari racconti nel libro e ci dà la dimensione reale di quello che hai appena detto. Te ne posso raccontare brevemente due, perché vedi poi, allora ricordo, il primo è sempre riferito al rapporto affettivo con i figli, ricordo un detenuto che ha subito, ha ricevuto una condanna molto lunga, una condanna all'ergastro e la moglie nel corso di questa condanna ha detto guarda io non ti aspetto più, perché ovviamente la mia prospettiva è con un altro compagno, perché tu stai, trascorrerei la vita qui all'interno dell'istituto di pena. lui lo sai che disse, guarda mi emoziono perché poi disse, allora la prossima settimana, al prossimo colloquio, vieni tu, riferendosi alla moglie, il tuo compagno e il nostro figlio. E mi ha raccontato che in sede di colloquio ha detto al figlio, guarda quell'uomo, ad oggi quell'uomo è tuo padre, perché ovviamente il papà è colui che è responsabile e accompagna la crescita del proprio figlio, lui era impossibilitato, però ha avuto questa illuminazione, ha detto io non posso privare della figura paterna un ragazzo, io non posso essere suo padre, lo seguirò a distanza, ovviamente una distanza interconnessa alla detenzione, ma lo crescerà chi ha la possibilità di crescere. Un altro episodio è l'unico, è l'ultimo, proprio a dimostrazione che se ci crediamo, ma in ogni cosa bisogna crederci, anche quando incontriamo gli ostiacoli, anche quando riceviamo i primi feedback negativi, bisogna crederci, bisogna andare sempre a oltre, sempre al di là, ecco il titolo del libro. Ricordo un ragazzo, sempre che ha subito una pena a una lunga detenzione, dopo aver conseguito l'ex licenza media, dopo aver conseguito il diploma, mi ha detto professore io mi voglio laureare, mi ha detto scegli la facoltà, ha detto no, io scelgo giurisprudenza perché so che tu mi puoi aiutare, perché io sono avvocato e quindi ho una preparazione giuridica. Ho detto guarda, io ti seguo e ti aiuto e qui andrà in gioco il volontario, perché ovviamente questo aiuto non poteva essere garantito all'interno dell'ora scolastica, ma è oltre l'orario scolastico, io ti aiuto ma ti devi impegnare. Praticamente la mattina dopo la scuola facevamo questa lezione di un paio d'ore, lui il giorno dopo mi rendi contava ciò che avevamo detto il giorno prima. Prove prese elettive, 99 risposte esatte su 100, il primo candidato con valutazione più alta ad essere ammesso nella provincia di Foggia. Poi per dinamiche interconnesse al sistema penitenziario il ragazzo fu trasferito, io a distanza di anni, un paio d'anni fa, mentre la mattina guardavo i notiziari, mi sono trovato per caso su una televisione del Molise, ma per caso e praticamente stavano socializzando la notizia di questo detenuto che aveva conseguito la laurea. Il detenuto era quel ragazzo che aveva iniziato con me gli studi. Una bellissima soddisfazione senza dubbio da parte tua e ecco l'esempio concreto che tutto quello che abbiamo detto stamattina con te ha senso e può produrre un reale cambiamento. Grazie Luigi per essere stato con noi, siamo arrivati proprio in extremis, però possiamo Una battuta, una battuta me la devi consentire. Io ritengo che la vita non vada misurata in anni, ma in buone azioni, quindi le buone azioni animano buoni comportamenti e buoni comportamenti garantiscono dei risultati. Noi siamo perfettamente d'accordo con te, siamo grati per la testimonianza che hai condiviso con noi stamattina, per il tuo libro che è uno strumento su cui viaggia questa esperienza e speriamo di rivederci presto, magari tra qualche tempo, nel quale ci potrai raccontare anche gli altri progetti che stai portando avanti come dirigente scolastico nell'Ipeo a Michele Recce di San Giovanni Rotondo e Manfredonia. Grazie Luigi, allora arrivederci alla prossima. Linea alla regia.